Negli episodi precedenti, Burr ha incominciato la scostruzione della Forgea, ma riuscirò a finirla? Scopritelo nel nuovo episodio della... FIT-A-B-E-A-M-IN-CRACK-EDITION Hello! Salve a tutti, sono Burr e eccoci qui nel nuovo episodio della FIT-B-E-A-M-IN-CRACK-EDITION E sì, come avrete notato, ho un mining laser e comunque non siamo alla Co-Industries Questo perché purtroppo durante l'aggiornamento della Mindcrack, non so cosa diavolo è andato storto Ma quando ho aggiornato la Mindcrack e sono entrato, il mio mondo è stato cancellato Non so come diavolo sia successo, non so se sia successo anche a voi, non lo so Ma il mondo è stato cancellato, quindi tutto quello che avete visto nei precedenti episodi è stato preso così Ed è stato mandato a fanculo, quindi non posso più continuare su quel mondo E adesso sono qui, uno per spiegarvi quello che stavo spiegando nell'episodio precedente Perché non mi piacerebbe che la serie finisca così senza neanche spiegarvi quello che stavo finendo di fare E non so neanche se la serie finirà, questo ti fanno da voi Beh, allora, prima di dirvi un po' cosa dovrete fare Vi faccio vedere questo bellissimo posto fatto da me Nello scorso episodio, come ho anche detto nel vlog, aveva vinto lo stile sabbioso E infatti qui ho fatto una bellissima strada con candela E questo stile sabbioso, però lo stile briccoso gli era giusto giusto dietro E sì, ho anche fatto diversi stili di strada, sì E quindi per omaggiare anche lo stile briccoso Ecco un piccolo pezzo di strada in stile briccoso E comunque, qui è dove vi spiegherò le cose che volevo fare Però lo faremo dopo, prima Voglio spiegarvi un po' come, cos, come, cioè, come Questo money laser fa schifo Anche se effettivamente servirebbe appunto per me Wow, quanto mina Oh, fa esplodere le cose Comunque, maiele Sei pronto ad essere minato? Fatti minare Stupido maiele Questa money laser ha un raggio minuscolo Però a scavare è molto abile Comunque, lasciamo perdere il money laser che scava Via, battene via E quindi, perché altrimenti mi sarei messo vent'ore Lì a giocare con i money laser Non vi avevi spiegato niente Comunque, è la settima volta che dico Comunque Sta a voi adesso decidere Se dovrò continuare la serie Però, eh, fermandola per un certo periodo di tempo Perché dovrò Io voglio spiegare le cose No, non volete farmi spiegare niente Allora, sta a voi decidere Se continuare la serie E quindi fare un episodio 15 Però, senza Cioè, nel senso Dato che questa musica non voleva proprio andarsene L'ho dovuta togliere Quindi, sta a voi decidere se continuare la serie Quindi se fare un episodio 15 E però, se dovrò fare questo episodio 15 Dovrete aspettare un bel po' Perché devo tornare ai livelli dell'episodio 13 Quindi dovevo rifare tutto quello che avevo nell'episodio 13 Eccetera Quindi ci vorrà davvero parecchio tempo Oppure Fermarla E farla solo, diciamo, nei live Farò un mondo mio così E potrei farla nei live E magari Prendere qualche episodio del live E caricarlo su YouTube Per far vedere le mie gestiche creazioni Magari qualcosa di davvero figo Eccetera Non lo so Quindi Preferite che finisca E però Magari Se proprio volete che finisca Punto e basta Non la farò più Continuerò Forse a fare qualcosa Perché La mod pack mi piace Ma comunque Molte delle mod che sono qui dentro Se la serie finirà Le porterò nella Yogbox E quindi dovrò aggiungergli Altre mod Nella Yogbox Ma vabbè Comunque se Appunto finirà la serie O non la farò più O magari farò un episodio Ogni morte di Papa Quindi significa parecchio Molto parecchio E oppure appunto Farla nei live O magari Non lo so Finirla Definitivamente E iniziare nuove serie Come ad esempio Sporro E anche Dead Island Perché sì Volevo iniziare a fare Dead Island Sì Dead Island E quindi Non lo so O e poi ci saranno Anche tante altre serie Comunque Lo vedremo in seguito Quindi Sta a voi adesso Decidere Scrivete nei commenti Se volete che la serie Contin... Oh Un secondo E quindi Sta a voi decidere Se la serie Continui Quindi scrivetemi Nei commenti Se volete che la serie Continui Quindi dovete aspettare Per farmi ritornare A quei livelli Oppure di fermarla Farla nei live O magari qualcosa Anche che non ho detto Potreste darmi dei consigli Sarebbero bene accetti Quindi Ehm Scrivete Su Cosa state aspettando E quindi adesso Finirò di spiegare Quello che stavo facendo Nello scorso episodio Allora Nello scorso episodio Eravamo riusciti A creare Lì Il Lardened Glass Lardened Glass Sono ancora in città Aspettate Perché ovviamente Queste cose Me le sono givate Ovvero Le ho prese Dalla Nenna Tenaf Items Ovviamente Comunque Avevamo fa Grazie Avevamo fatto Lardened Glass E quindi adesso Tramite Lardened Glass Dovevamo prendere Un po' di tin Del diamante E fare Il Tetherrack E se non sbaglio Si fa così Vediamo un po' Un secondo BAM Tetherrack Frame E dopo aver fatto Il Tetherrack Frame Dobbiamo prendere Un magma crucible E metterci All'interno Aspettate Un secondo Non fare Con tutto Sto casino Process E metterci dentro Delle Ender Pearl Così da fare Un secondo La Molten Ender Quindi ovvero L'Ender Pearl Liquefatta Ed eccola qua Ed eccola Scorrere lungo Questo piccolo Tubo E la vedremo E la vedremo Entrare Qui dentro Nel Liquid Trasporter E per poterla Mettere qui dentro Adesso quindi Mettendola qui dentro E ovviamente Ho dimenticato Di fare la Magma inza E ho dimenticato Di fare la La Come si chiama L'Engine Un secondo Ho dimenticato Di dare energia A questa Robaccia qua Ma Beh Ovviamente Non potrevi mai Fare qualcosa Di perfetto Leaver Vabbè Le Leve Ah Lever Giusto Non Lever E vabbè Allora Comunque Adesso Dobbiamo Metterci anche A fare la Magma La Combustione Engine Allora Mettiamo questo Qua dentro Tu vieni Vai tu qua dentro Perfetto E adesso Diamo gli energia Adesso Non sta prendendo Energia Perché l'ho Configurato male Allora Qui sotto Blu Si ok Sta prendendo Energia Adesso Quindi Prenderà L'ender Per La Molten Ender E la metterà Qui dentro Nel Tesseract Frame Perché infatti Se qui Clicchiamo Ci dirà Che per fare Il Nel 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 Tesseract Dobbiamo Prendere il liquido Da qua dentro E metterlo Qui Semplicemente Semplicemente Lalalalalala E quindi Adesso però Dovremmo aspettare Un po' Che l'energia Si carichi Perché ovviamente Sono un idiota E va bene Comunque Alla fine Dovremmo Riuscire a Craftare Aspettate Me lo Give Un secondo Alla fine Uscirà Lunata Tesseract Ovvero Questo coso Un Nel Tesseract Con del Compatti Con della glass Del ferro E della redstone Ehm No Ah Dannezione Comunque Ehm E del silver Ai lati No aspetta Tin Tutto qui E Il silver Ai lati No tu No qua No così Mmm Come cavolo Ti facevi Ah beh Vediamo Semplicemente Qui dentro Come si fa Liquid Tesseract Non lo voglio In realtà Volevo sapere Solo come si fa Ok Ecco qua Allora Dobbiamo utilizzare Silver Silver Oh Il copper Che sbadato Allora Quindi mi serve Anche del copper Copper Tu vai via Mi serve del copper 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 Eccolo qua E quindi Adesso Siamo in grado Finalmente Di fare Questa robaccia Qua Eh Vabbè Perdonate Il povero Bear Allora Quindi BAM Ultra Mega Liquid Tesseract Questo Bellissimo Aggegino Come ho detto Nell'episodio Precedente Serve appunto Per teletrasportare Il liquido Sia dalla stessa dimensione Quindi che ne so Da un punto A Ad un punto B Che potrebbe essere Quello Che potrebbe essere Questo Questo qua Questo qua Questo questo E quindi E trasportarlo Senza bisogno Di lunghissime tubature Oppure Trasportarlo Dal nether Alla terra O dalla terra All land O dal land All nether O dal land Alla twilight forest Eccetera Quindi funziona In tutte le dimensioni Qualsiasi mod Aggiungiate Ed è molto Molto utile Uno perché Tipo se Lo usassimo Sulla terra Sarebbe molto più utile Perché Ad un certo punto Come penso Che molti di voi Sapranno Il personaggio Cioè Minecraft Non carica più Chunk Quindi se noi facciamo Una Una tubatura Iper lunga Diciamo Di mille blocchi Una parte di questa Tubatura Non sarà loddata Quindi quando noi Manderemo Roba Roba Su roba Quella roba Si fermerà Tutta in un luogo E poi Per farla Continuare A camminare Dovremmo andare Verso La tubatura E quindi Sbloccare Ricaricare il chunk E permettere Alla roba Di passare Però dopo Che saremo andati Dove la roba Passa Il Minecraft Non Perfetto Sto spiegando Cribio Minecraft Un secondo Per piacere Se lo sto chiedendo Per piacere Pioggia Ti ringrazio Minecraft Non caricherà Più la parte Che manda Quindi Oltre alla roba Che avevamo Già mandato Non riceveremo Più nulla Perché se lo stessi Domandando Qui sotto C'è un command block Quindi E questo E questa La grande utilità Del teserack Adesso Mi direte Si è vero Ma se noi mettiamo Il teserack Molto lontano Non riuscire Anche il teserack Non sarà loddato Quindi non potrà Ricevere E questo Anche è vero Ma grazie Al chunk loader Si potrà fare In modo semplice E voi direte E allora Tanto vale Usare il chunk loader Con le tubature Sì ma Con le tubature Dovreste caricare Molti più chunk E Non tutti Possono permetterselo Quindi Ecco qui Che comunque Qui si è fatto L'unato Averlo Il teserack E vabbè Allora Quello che volevo Fare io Con il liquid Teserack Era semplicemente Utilizzarlo Per fare Dell'energia Diciamo Quasi Infinita Perché Grazie a Il chunk loader E al teserack Potevo Prendere Tutta La lava Del nether Che è Praticamente Infinita E portarmela qua E quindi Transformarla In energia Ma come fare Questa cosa Beh Allora Prima di tutto Dovremmo costruire Due liquid Teserack Quindi Uno lo metteremo Qui Sulla terra Sul mondo Normale E E appunto Da questo Metteremo Dei tubi Che lo portano A ciò che vogliamo Adesso È solo Un tank Però se io Volessi fare L'energia Lo porterei A un Magma Com'era La cosa Per fare Nannaccio Perché Non ricordo Le cose Vedete Perché Non voglio Spiegare Le cose Perché Le so Fare Ma Non ricordo I termini Allora Non ricordo I nomi Dei cubi Più che altro Allora Com'era Compressor Extractor Magerator Electric No Dannazione Ah geothermal Generator Ecco Geothermal Generator Quindi grazie al geothermal Generator Fare l'elettricità E quindi Prima dovrete Costruire questa roba qua E poi un'altra cosa Nennether Però ricordate Che la roba Che sta sulla terra Deve essere Loaddata Quindi serve O questi Cosi qua Che sono la stessa Cosa del chunk Loader Solo che Loaddano Un chunk Alla volta E si craftano Utilizzando il chunk Loader E quindi Se ne fanno 12 E non mi ricordo Neanche come si chiamano Quindi faremo così Ciung Ecco qua E prendendo il chunk Loader E mettendolo Nella griglia Di crafting Otterremo Otterremo Ben Do 10 Ah ok Meno male 10 Di spot Loader Ovviamente Dovremmo usare Anche delle altre Ender pearl Perché infatti Io ricordavo Che si dovesse Utilizzare Solo il chunk Loader Va bene Comunque Otterremo 10 Spot Loader Che caricheranno Solo un chunk Alla volta E poi direte Come farò Come farò a capire Se il chunk Va bene o meno Beh ci sono due modi Se state utilizzando la Mindcrack potrete Semplicemente fare F9 No Di nuovo Più volte Dovete farlo due volte E adesso vedete Questa strana Griglia verde Questa griglia verde Più tutte queste linee rosse Tracciano i confini Di un chunk Quindi adesso che sono qui Tutte queste linee verdi Delimitano La fine del chunk Se infatti uscissi E andassi verso questa direzione Il chunk cambierebbe Di qua In questo chunk E voi direte Vero ma io voglio saperlo Anche in un Minecraft Senza mod Ben nulla di più facile Basta premere F3 E vedremo dove C'è la X C'è Dopo la La doppia slash C'è quel numero C'è quel C C Due punti Meno 11 Allora Quella C Ci dice Il chunk Dove siamo Rispetto alla X Poi Sotto dove c'è la Z Vedete C uguale 18 E quindi E quello è il chunk Rispetto alla Z Ovviamente Quando noi sarei Tipo Se andiamo nella direzione Per aumentare la Z Cioè Diminuire la Z Vedremo che una volta Suppassato il chunk Il chunk sarà 17 E non più 18 E questo avverrà sempre Vedete Più che andiamo avanti Invece se passiamo Ad aumentare la X Il chunk diventerà 12 Ovviamente Però voi direte Perché meno 12 Eccetera Beh perché Come chunk iniziale E' il chunk Che si è già generato Che si è generato Dove c'è lo spawn E quindi lo chunk 0 0 Se andremo a Destra Se non sbaglio M negativo A sinistra No a sinistra Negativo A destra positivo O viceversa Non riuscire con certezza Comunque Da una parte è positiva E dall'altra è negativo Comunque Voi direte Si va bene Al consisto del chunk Però cosa sono Quei numeri nella parentesi Beh Quei numeri nella parentesi Sono il blocco Del chunk Quindi sapete benissimo Che ogni chunk Ha 16 blocchi Vedete 16 blocchi Però qui Ne porta solo 15 Perché? Beh perché Come vedete da qui Viene contato Anche il blocco 0 Vedete 1 0 Poi da 0 Passo a 15 Quindi 15 14 13 12 11 10 9 Aspettate 9 8 7 6 5 4 3 2 1 6 0 E poi 12 Capito? Quindi Adesso Ehm Detto questo Dovete posizionare Il Lo spot loader In modo che Carichi La roba che vi interessa Ovvero Il taser act Almeno Il taser act E le condutture Quindi Adesso Andremo nel nether E vi farò vedere La cosa del nether Solo che Un secondo Devo togliere l'audio Perché l'ho fatto Molto vicino Al 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 portale E quindi C'è il rumore del portale Che scassa leggermente Le balle Quindi Andiamo E vi ricordo Che il taser act Non Se non erro Non lo so Non me lo ricordo bene Non dovrebbe essere Ehm Non serve La combustion engine Cioè Un engine Se non sbaglio Serve solo a questo Al primo Se non ricordo male Non lo so Comunque Questo è ciò che Costruiremo nel nether Ovvero La pompa Che adesso attiviamo Che succhierà la lava Vedete Dice la lava E la pompa è arrivata Fila giù E succhierà la lava Ecco Come vedete La metterà qui In questo tank Che è praticamente Infinito Guardate dove arriva Non si vede Ehm Rompiti un attimo Netherrack Ok Guardate lì dove arriva E Dopo Una volta entrata in questo tank Potete anche farla andare direttamente Nel tesseract Comunque una volta entrata in questo tank Potete estrarla Dal tank E mandarla Al tesseract Oh Cristo Vabbè E mandarla al tesseract Per far funzionare questa cosa Vi raccomando Dovete usare Il tank loader Sia qui nel nether Che nella terra Perché altrimenti Questa cosa non funzionerà Ok O funzionerà solo se siete Cioè Se mettete il tank loader Solo nel nether La Il 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 Tesseract Manderà cose Solo se siete Nella terra Sulla terra Ok Perfetto Quindi adesso Mentre io sono qui Il tesseract Sta mandando Tanta lava E adesso andiamo a vedere Lo vedremo anche dal vivo Spero che stiate capendo bene La mia spiegazione Perché non sono Un abile spiegatore Ma forse dovrei dire Insegnante Spiegatore Non sono tanto bene Comunque Adesso vedremo infatti Che dal tesseract Esce lava E va Qui dentro Ma voi direte Come si configura Un tesseract Di null'altro Di più fa Non l'altro Di più facile Beh i ragazzoli Miei Allora Prima di tutto Bisogna posizionarlo Ovviamente E poi Cliccandoci Con il tasto destro Vi apparirà Questo Questo gui E quindi Adesso Qui dovrete Scrivere La La frequenza Che può Essere massimo 999 Penso Si E può essere massimo 999 Nome Quindi è composto Da numeri a tre cifre E non lo so Mettendo per esempio 1 Mettendo ok E possiamo dargli Un nome Tipo Jawellos Jawellos E dandogli Questo nome Jawellos La salveremo La frequenza Quindi adesso Questo liquid Tesseract E impostato Sulla frequenza Jawellos Adesso Andando su Quest'altro Tesseract Potremo impostarlo Sulla Frequenza Che vogliamo Quindi mettendo Jawellos Lui No Jawellos Ok Lui adesso È sulla frequenza Jawellos Quindi vedete Non prende più la lava Però Adesso Se noi Facciamo prima così Se noi ci Freghiamo Questa Robaccia Ecco qua Se noi ci freghiamo Questa robaccia E la mettiamo E la mettiamo qui No Così Questo E poi Un tank E selezioniamo Il Tesseract E mettiamo Prova 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 E lo impostiamo Come frequenza Adesso la lava Uscirà da questo Tesseract E non più da quello Ma possiamo anche Farne due insieme Infatti Posso anche settare Questo su prova Eh no Su prova Ok E adesso anche da lui Uscirà la lava Ovviamente la lava Verrà divisa Perché il Tesseract Che manda lava È solo uno E quindi la lava Infatti verrà divisa Vedete La lava è minore Molto minore Quindi se adesso Li tolgo La Lo disattivo Vedete che qui La lava Aumenta del doppio Ovviamente E quindi E quindi Questo è il funzionamento Del Tesseract Ovviamente potete anche Configurarlo con Che Sia che manda E riceve Sia che manda Soltanto Sia che riceve Soltanto Se mettete ovviamente Che manda Soltanto Qui non riceverà Nulla Aspettate No ok Sta succedendo Sende Reserve Sendo Olly Vedete Che non riceverà Nulla Ok Poi invece Reserve Olly Vedete Che riceverà Soltanto Quindi se provo A mandare qualcosa Con questo Tesseract Non manderò Nulla Sta tornando di nuovo Comunque spero Che mi abbiate capito E se non avete capito Qualcosa Scrivetelo nei commenti Cercherò di aiutarvi Oppure mandatemi Un messaggio Non c'è nessun problema E approfitto Per ricordarvi Che se non vi rispondo Dove Di rimanere Scrivere il messaggio Perché purtroppo Ne scrivete tantissimi E a volte Non riesco a rispondere A tutti i messaggi Comunque Andiamo Di qua E vi faccio vedere E vi faccio vedere Anche la Blast Fornance Penso Ne ho il tempo Per questo episodio Era tutto Non riesco a giocare Senza audio Ok Adesso va molto meglio Per questo episodio Era tutto Quindi mi raccomando Scrivete nei commenti Cosa volete Che faccia Con la serie Della FITB Se volete che la continui Che la interrompi Che la Che la faccia Continuare in seguito Dopo che sono riuscito A rifarmi tutto quanto In un nuovo mondo Ovviamente E non lo so Oppure volete Che la interrompa E inizi nuove serie E ovviamente Potrei anche Continuarne nel live Comunque Potrei ancora Farci qualche altra cosa Ma Non lo so Chiedete voi Per me Forse sarebbe un po' Non so se A me piaceva tanto Come serie Però Forse Non so Sarebbe meglio Interlumperla Perché ho tante serie Di Minecraft Ma non lo so Vedete voi Datemi qualche consiglio Comunque Vedrò un po' I commenti E deciderò In seguito E ovviamente Vi farò sapere Mi farei ovvio Forse quindi Ci sarà un episodio 15 Anche per dirvi E non possiamo fare Più niente Cose simili Quindi Ci rivediamo Forse Nel prossimo episodio Ma comunque Ci rivedremo In tanti altri video E Ciao 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 Bellissimi creeperleach Saranno Un ottimo Un ottimo Un ottimo Un ottimo BOOM AHAHAHA Sei il Po Dovresti morire E' morto Un ottimo It� Grazie.